Commissario, l'incontro con il commissario dell'ASP di Crotone per parlare di cosa? Della salute dei cittadini di Crotone, innanzitutto dei bambini, delle donne e degli uomini. Perché il professore Rocco Bellantone, che è uno dei più grandi studiosi di problematiche della salute, attuale presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in un suo intervento pubblicato dalla stampa ha riferito che le due province della Calabria dove è più alto il tasso tumorale di ospedalizzazione sono Vibo, Valencia e Crotone. È chiaro che quello che ha detto e ha scritto e hanno riportato in giornale mi vede molto attento, ma non solo, ma anche il professor Laghi, consigliere Laghi ha parlato, ma anche il consiglio regionale ha parlato di queste problematiche relative alla salute pubblica di Crotone. Quindi non mancano interventi che impongono una maggiore attenzione. Quindi questa attenzione l'ho trasformata in azione e ho chiesto al commissario straordinario, il quale ha risposto molto volentieri e con molta disponibilità, il dottor Bambrilla, a incontrarci per discutere della salute dei cittadini di Crotone e residenti e anche abitanti o turisti di Crotone. Ecco, perché? Perché devo capire, quindi mi devo formare il processo decisionale, processo decisionale che potrà vedere naturalmente il commissario obbligato a emettere degli atti ordinativi per far sì che l'esposizione dei contaminanti non crei maggiore danno di quanto già ne ha creato in passato ai cittadini. La finalità dell'incontro di oggi è proprio studiare la reale incidenza, prevalenza, insomma il rapporto con la mortalità qui a Crotone e provincia, in rapporto anche con il resto del paese. In realtà i dati sono più complessi di come si possa pensare. Noi adesso abbiamo iniziato a raccogliere dati sull'iteratura internazionale e anche attraverso uno studio che avevano fatto alcuni miei collaboratori qualche anno fa, però sono dati non recentissimi. C'è anche in atto a livello regionale la sistemazione, diciamo, dei flussi per avere un registro tumori importante che poi sarà necessario anche per la programmazione dei servizi, naturalmente. Quindi oggi si inizia un confronto con il commissario per la bonifica finalizzato proprio ad avere elementi utili alla programmazione degli interventi. Dopodiché sicuramente la bonifica è un fatto molto importante per la salute di popolazione e quindi non bisogna, secondo me, confondere poi l'incidenza dei fattori ambientali con il fatto che comunque la bonifica va fatta. Il primo passo importante quale sarà? Uscire fuori da questa situazione che vede Eni non proseguire nelle attività di bonifica. Questo è il vero problema. Ovviamente sono 24 anni che continuiamo a parlare dello stesso problema. Quando i rifiuti si potevano portare nelle discariche non le volevano portare. Oggi che ci sono dei vincoli diversi scaturiti dal POB fase 2, non ci sono altri siti, o almeno dicono che non ci siano altri siti, ma il vero pericolo è il sito di Pertusola, gli interventi che si devono fare a protezione della falda, indipendentemente dai rifiuti, che comunque allo stato attuale costituiscono il vero blocco del POB fase 2. Con l'arrivo del generale Enrico si deve discutere e trovare la soluzione migliore per tutti quanti. Stiamo cercando di lavorare, sicuramente non fare gli interessi della multinazionale, perché bonifiche al ribasso non ne accetteremo mai. Questo voglio ribadirlo e voglio rassicurare i miei concittadini.